Ogni vittoria aiuta la classifica, aiuta il morale, quindi prima arrivano i punti necessari alla salvezza e meglio è, anche se siamo messi in maniera buona in classifica, abbiamo diverse squadre sotto e tutti gli scontri diretti li abbiamo in casa, quindi comincia a diventare una classifica più consona a quelle che erano le aspettative all'inizio del campionato. Certo, è una squadra comunque, è una partita difficile, non ci tiriamo indietro, comunque abbiamo giocato con altre squadre di un certo livello e abbiamo giocato quasi sempre alla pari in casa, quindi perché non provare anche se, ripeto, abbiamo qualche problema fisico da parte di qualcuno, ma senza nessun timore verso nessuno, verso nessuna squadra, verso nessuna giocatrice, andremo in campo, ce la metteremo tutta per portare i tre punti dentro.